LA PARZELLETTA DI GEFFO Allora, è domenica pomeriggio siamo in uno di quei centri commerciali di Roma quelli grossi, pieni de gente, no? pieni, pieni, un sacco de caos, de confusione a un certo punto si incontrano due amici ahua Giovanni, ahua Mario, come stai? tutto bello, bello, mi fa piacere, vedete? ma che stai a fare qua? fai sto con mi moglie, ma me la so persa, non la trovo più guarda, fai io pure mi so perso mi moglie ma no, dai, pensa che casualità dai, dai me la cerca, gli fai, ma com'è tua moglie? eh, niente, mi moglie è alta a 1,75 c'ha i capelli rossi, lisci, corti a caschetto che punta e rivolse verso il viso due gambe perfette, ha la quarta di seno un sedere alto e tu moglie, invece? ma che ce frega te ne moglie, ma andiamo a cercare la tua la sveglia dei gladiatori dimensione suono Roma, il ritmo della capitale